Io ho un sogno, I've got a dream, ed è di usare i molti, o almeno una parte, dei molti edifici e palazzi sfitti, non utilizzati e magari anche cadenti, sparsi per il Lazio, fare dei bandi e offrirli alle associazioni culturali, ai gruppi di giovani, alle associazioni di cittadini che vogliono produrre cultura. Allora, fatalità, a Viterbo c'è un palazzo molto bello, molto grande, che si chiama, pare, Palazzo Calabresi, che pare che sia proprio della regione Lazio, e che sarebbe un fantastico luogo in cui ricavare un teatro, una foresteria, perché loro, per esempio, fanno venire compagnie dall'estero, hanno pochi soldi, costretti a pagare gli alberghi, forse un altro modo di finanziamento è anche questo, per la possibilità di fare una foresteria in modo che abbatti i costi, anche facendo venire le compagnie straniere. Quindi mi piacerebbe, ovviamente, mettere a bando, perché non esiste l'assegnazione diretta, però mi piacerebbe che diventasse un po' una prassi, che noi contiamo tutti i beni di famiglia, i gioielli di famiglia, quello che possediamo, e lo mettiamo a disposizione dei cittadini che vogliono produrre cultura, perché dando residenza un evento non resta un evento, diventa un momento di radicamento nel territorio e quindi quel luogo diventa un luogo dove si fa cultura, e quindi un punto di riferimento per i cittadini, dove possono andare a discutere, ad ascoltare la presentazione di un libro, una lezione magistralis, un reading, come uno spettacolo teatrale possono godere, e anche chi produce ha una casa dove scambiarsi opinioni, un luogo dove i giovani possono incontrarsi uniti da una passione comune, e non semplicemente per versi una birra.